per ritrovare amici di romaggielorossa.it allora volevo fare questo video solamente per raccontarvi una cosa molto buffa qualcuno ha segnalato le parodie, le canzoni circa 195 canzoni di cui 50-60 sono dedicate non solo alla Roma ma anche a Mourinho canzoni parodie dove mettevo la mia voce prestavo indegnamente la mia voce per inneggiare alla Roma alle geste di Mourinho e alle vittorie alla vittoria della Conference League ma non solo quindi è chiaro evidente da che parte sto e da che parte stiamo sia io che Maria Palavioli per quanto riguarda la Roma e Giuseppe Mourinho siamo alla parte della Roma e di Giuseppe Mourinho però è successo che questa segnalazione da parte non so di chi di un gruppetto certamente non è non sono pochi perché se è una segnalazione YouTube non la prende nemmeno in considerazione se sono molte segnalazioni YouTube la prende in considerazione premesso che non me ne frega niente ma voglio farci un video ci hanno tolto la monetizzazione salvi per Davide ci hanno tolto la monetizzazione sul canale YouTube di Roma ma Giuseppe Mourinho cioè veramente noi facevamo io fino a un mese fa facevo solo canzoni e voi sapete che le canzoni sono in condivisione molto spesso con l'autore gli introiti oppure sono praticamente come ci tolgono proprio la monetizzazione per esempio quella su Lukaku due su Lukaku ci hanno tolto la monetizzazione cioè nel senso non si potrebbe monetizzare il video quelle su Mourinho molte la maggior parte non non sono monetizzate perché non so motivo comunque non sono monetizzate proprio perché non ce l'hanno fatta monetizzare ma vi giuriamo su quello che c'è più chiaro che dalle canzoni forse ci ricavavamo un euro o due al mese un euro o due al mese dalle canzoni quindi questo vi vuole far capire l'odio che in questo momento c'è per Mourinho e contro Mourinho l'odio che c'è per Mourinho la gente una parte secondo me una minoranza che sta anche male me lo dico chiaramente poi poi ci attacca di conseguenza perché noi siamo come Mourinho e quindi ci segnate video a me posso pure chiudere il canale di Roma maggiore della grossa tv non mi interessa niente non mi interessa niente addirittura YouTube mi ha detto se aprirai un altro canale con i tuoi dati della monetizzazione ma non mi interessa niente vi dico la sincera verità dico questa cosa perché da quando abbiamo cominciato a spingere forte e a difendere Mourinho contro tutto e tutti da due anni da due anni e mezzo da quando c'è Giuseppe Mourinho evidentemente hanno dovuto poi segnalare questi video e ci hanno tolto la monetizzazione uno dice perché le canzoni le parodie si fanno le parodie si fanno non vedo nessun canale chiuso nessun canale non monetizzato anzi ci sono YouTuber pure che fanno le parodie gli autocall eccetera quindi quelle non vengono assolutamente come dire tolte la monetizzazione anzi cioè se ne prendono chiaramente con i canali così un po' più piccolini da 4.500 4.300 a me non frega niente spero che ce la possano riattivare ma non perché a me frega qualcosa ma perché è una questione di principio che veramente le persone che hanno dei problemi segnalino dei video ma veramente hanno dei problemi fermo che hanno dei problemi queste persone che si mettono lì a segnare dei video canzoni parodie video che io dico certe cose a favore di Molinio non sanno bene e segnalano questo video e ci tolgo la monetizzazione su YouTube e YouTube li dà pure letta quindi cioè io per fortuna c'è romaggialorossa.it c'è YouTube praticamente è un viatico come per dire per invogliarvi a visitare romaggialorossa.it ad ascoltare i nostri podcast tant'è vero che io ho cominciato da fine luglio inizio agosto un po' tutto agosto a raccontarvi delle vicende di mercato a raccontarvi di di Renato Sanges di Zapata di Lukaku eccetera e poi abbiamo parlato di calcio giocato e rimango stupito all'invito non ho neanche le parole per dirlo veramente mi vergogno per YouTube a dire questa cosa ma è così perché se poi uno va a vedere le segnalazioni effettivamente sono tutte canzoni sono tutte canzoni su Murigno poi manco dire sulla Roma su Murigno sono canzoni su Murigno hanno segnalato le canzoni su Murigno e quelle su Lukaku mi rendete conto roba davanti io vabbè ci rido sopra però volevo dire quindi io continuerò a fare video su YouTube ogni tanto per parlare della partita se mi metteranno a monetizzazione è bene se no continuiamo come al solito non c'è problema è un modo per arrivare a più persone per far conoscere RomaGiorossa come abbiamo fatto a più persone possibili non è questo il problema volevo solo raccontarvi questa cosa che mi faceva sbellicare delle risate e che la volevo condividere con voi adesso io utilizzo i canali YouTube Twitter Facebook tutti i canali possibili RomaGiorossa tv di RomaGiorossa punto it tutti tutti ti mettiamo la per tutto hanno segnalato RomaGiorossa tv per Mourinho quindi Mourinho anzi José special one mister chiamiamolo come è colpa tu ti abbiamo dato una colpa ecco tu dopo tutte le altre colpe che ti danno c'hai pure questa di colpa che ci hai bloccato la monetizzazione mannaggia e te José ma guarda i casini che convini José prendiamola a ridere ma perché ma è da ridere due euro al mese ma che cazzo che me ne frega ma al di là di questo no per dire dove è arrivata la gente io dico poco poco Mourinho ecco adesso mi faccio serio questo mi spingerà ancora di più a difendere Mourinho a difendere la Roma e andare contro tutti coloro che vanno contro Mourinho mi segnerò tutti me li segnerò tutti dal primo all'altro Cassano sparare sulla croce rossa però vi segnalo un bel un bel editoriale su sportitalia.com di Michele Crescidiello mi fate due risate Crescidiello mi fate due risate se volete farlo se volete leggerlo faccia pure pubblicità sportitalia.com visto che ne ha bisogno se volete leggerlo vi sbellicate le risate cinque secondi e vi sbellicate le risate detto questo che altro devo dire ma che altro devo dire ci hanno broccato a monichizzazione su youtube ci devono chiudere Roma giallorossa.it per andare per 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 fermarci ci riusciranno mai saranno mai che poi che poi si devono appigliare a qualche caviglio qualche cosa ci riusciranno mai a chiudere Roma giallorossa.it come nel 2010 fece qualcuno ci riusciranno mai ma staremo a vedere poi la monichizzazione non mi piace che niente però vi volevo raccontare questa cosa un saluto a tutti forza per Murigno io sempre per Murigno con la Roma per Murigno anzi con Murigno per la Roma